Partiti. In vantaggio si porta Nomev con all'esterno Ciumbalicca, segue Aleynad che si sistema in terza posizione davanti a Sunson, quindi Linus Pauling, Mujainov Caffeina e Klairgis. Cavalli ora lungo la retta opposta e poco prima dell'imbocco della curva con Ciumbalicca che è passata a condurre nei confronti di Nomev, a ridosso dei primi in terza posizione Aleynad con vicino all'interno Sunson, quindi Mujainov Caffeina e Klairgis. Royal Esce, Linus Pauling che è scivolato nelle retrovie insieme a Francoforte. Buona landatura imposta da Ciumbalicca lungo la curva di fondo e Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta d'arrivo con Ciumbalicca che prosegue dritta per la sua strada al comando. Nomev va al suo in seguimento con a ridosso Sunson coperto e Aleynad più all'esterno, più a centropista avanzano anche Mujainov Caffeina e Royal Esce. Siamo a 400 dal palo con Ciumbalicca sotto attacco di Nomev e Aleynad, quindi anche Royal Esce più a largo Francoforte all'esterno di tutti. Ciumbalicca si mantiene in vantaggio, Sunson cerca il barco all'interno, quindi Nomev va ancora a Aleynad e Mujainov Caffeina a centropista. Nel tratto finale Ciumbalicca è attaccata a fondo a centropista da Mujainov Caffeina, ma è Ciumbalicca che si impone su Mujainov Caffeina e Sanson. Al quarto posto Nomev su Aleynad. Rivediamo le immagini conclusive con il numero 7 Ciumbalicca, Germano Marcellin Zella in testa da un capo all'altro, ha mantenuto botta al finale incisivo di Mujainov Caffeina con il numero 8 e di Sunson con il numero 5. Quindi 7-8-5 al quarto posto il favorito numero 4, quindi 7-8-5-4 l'arrivo ufficioso di questa quarta corsa di Napoli.